Mi trovo in Piazza Ebalia, precisamente dinnanzi alla facoltà di medicina, sede distaccata di Taranto. Guardate la stranezza, ci sono delle strisce blu, quindi una persona pensa che se ci sono le strisce blu io vado e parcheggio, ma qui si nasconde l'inganno. Perché? Perché esiste una segnaletica la quale dice numero 5 parcheggi riservati ai mezzi dell'ASD dalle ore 7 alle ore 18. Cosa accade? Che puntualmente arrivano i carattrezzi e fanno stragi, nel senso che applicano per carità quella che è la disposizione e dicono che qui la macchina non doveva essere parcheggiata perché l'hai parcheggiata nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 18. Ma questa è una cosa ingannevole perché il cittadino magari non va a pensare, non va a guardare il cartello, guarda la striscia blu e basta. Allora a questo punto, anziché fare situazioni ingannevoli, perché poi ho il sospetto, diceva il buon Andreotti che a sospettare si fa peccato ma molto spesso si azzecca, che qui alla fine si vuole fare soltanto cassa e si vuole stangare il cittadino perché poi arrivano i carattrezzi e si dice Caro mio, è vero che tu hai parcheggiato sulle strisce blu, però tu sei stato poco attento, non hai letto il cartello lì. Allora invece di fare tutto questo casino per far cadere poi nella nasa il cittadino, che già viene spremuto a un euro a ora, non ne parliamo poi degli abbonamenti mensili, ma lasciamo perdere, bene, mettete a questo punto le strisce gialle e fate prima. E in questo modo non create strani equivoci. L'altra cosa che io non ammetto è che questi cinque posti siano riservati ai mezzi dell'ASL. Non mi sta bene, non so se è per l'ASL direttamente o per la facoltà di medicina, in ogni caso non mi sta bene, perché il comune cittadino gira, butta il veleno per trovare il posto per parcheggiare, si muove prima la mattina, gira, 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 questi arrivano comodamente qui e hanno il loro posto riservato. Ma dove sta scritto che dobbiamo avere cinque parcheggi per privilegiati? E invece all'orbale cittadino che erroneamente parcheggia qui, ingannato, ingannato dalle strisce blu, si dice devi essere punito perché non hai letto il cartello. Due pesi e due misure, figli e figliastri. Amministrazione Melucci, queste strisce le dovete fare gialle, gialle. Non dobbiamo fare i furbetti con i cittadini, perché il cittadino cade facilmente in errore con questa indicazione ingannevole e fuorviante. Capito? E' un appello bonario che rivolgo al sindaco, all'assessore alla polizia locale Ciraci e al comandante della polizia locale Matichecchia. Vogliamo collaborare? O vogliamo soltanto stangare il cittadino? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.